Ciao a tutti, siamo in Piazza del Popolo e la piazza si sta riempiendo sempre di più, ma mancate soltanto voi. Vi aspettiamo, raggiungeteci, è un momento storico per la storia del nostro paese, è il momento in cui possiamo cambiare e scrivere una nuova pagina piena di competenza, voglia di fare e soprattutto di trasparenza e capacità. Noi ci crediamo e vi aspettiamo in piazza per vivere insieme questo bellissimo momento. Un abbraccio forte e viva il Movimento 5 Stelle.